Il denaro americano Il denaro americano Il denaro americano la terza posizione, tra mille infatti, tra mille tradimenti, passi secondi, passi pesanti e venti, tra mille volte a faccia c'è chi marcia ancora, pochi sguardi nobili liberando la russa, la vanguardia del popolo sornano, in sorrezione riprenderà per fare, la rivolta armata liberando l'Italia, dall'istocrazia rivoluzionaria, con del contesto di reazione russa armata per la terza posizione, con del contesto di reazione russa armata per la terza posizione